Hola! Quante volte hai già visto questo problema? Il cliente viene da te, vuole ordinare un dolce profiterol ad esempio, chiede al cameriere. Il cameriere dice non lo so, devo chiedere in cucina, chiedo in cucina. Allora lo risolviamo semplicemente con il menù cartale. Con il menù cartale il cameriere non viaggia più, sala cucina cucina sala, il cliente è contento e tu fatturi di più, perché risparmi tempo, il cliente ritorna, ti dà recensioni positive, un sacco di vantaggi. Guarda il video. Allora, cosa vuol dire che il menù cartale sa che quello che vuoi ordinare è finito? Cosa vuol dire? Allora, guarda qui, io sono cliente e ho in mano il mio menù cartale, no? Ok, perfetto, della pizzeria. Ah, tra parentesi, se non sai cos'è un menù cartale, guarda i miei video precedenti. Voglio ordinare una pizza, quindi prendo il mio bel telefonino con carrelli e cosa faccio? La ordino, quindi visualizzo qua. Cosa succede? Ecco, vedi quando inquadro la pizza mi dice tocca, cioè devo toccare qui per inquadrare, no? Vado dai dolci, tirami su, tocca, guardate cosa succede profiterol. Finito. Pazzesco, eh? Qua tocca, qua profiterol, finito. Fortissimo. Cosa vuol dire? Che ti rendi conto immediatamente che non è rimasto nessun profiterol. È subito chiaro per il cliente. Il vantaggio è immediato, i tuoi camerieri quindi non devono perdere tempo e andare in cucina a chiedere. La cucina non si lamenta perché non viene interrotta e il cliente è contento perché sa sempre i piatti che ci sono e i piatti che sono esauriti. E questo è possibile farlo per qualunque piatto o bevanda del tuo locale. Infine, la cosa superlativa è che tu e i tuoi colleghi non dovete fare nulla perché tutto viene gestito in automatico da carrelli e dal menù cartale. Ti mostrerò in un prossimo video come sia possibile tutto ciò. Comunque, guarda qua, tocca, finito. E se provo a cliccare qui? E dice il piatto esaurito.